Elenco del Tribunale Militare delle Celebrità Condannate, luoghi non divulgati. GITMO, GUAME TERRA DEL FUOCO Di Medea Greere. 4 maggio 2024 In un mondo avvolto nella segretezza, è emersa una rivelazione rivoluzionaria, che ha smascherato una rete di inganni orchestrata da una cabala globale di elite. Questa esposizione approfondisce il regno clandestino dei tribunali militari, GITMO, GUAME TERRA DEL FUOCO, dove viene assicurata giustizia per i crimini contro l'umanità. Preparatevi mentre svegliamo la scioccante verità dietro l'installazione delle controfigure della crisi e il ruolo chiave svolto dal CIC Donald Trump e dalla White Hat Military Alliance nel mettere in ginocchio queste forze malevole. La presentazione di Trump è il piano Q. Dalla A alla Z. Un video di Charlie Freak, giustamente intitolato Trump e TQ Plan. Complete from a to Z, serve come chiave per comprendere le mosse enigmatiche compiute dal CIC Donald Trump. Questa esposizione innovativa rivela come Trump abbia utilizzato una serie di prove riguardanti l'adrenocromo, il prelievo di organi e il traffico di bambini per costringere i leader mondiali a capitolare al piano della White Hat Military Alliance. La White Hat Military Alliance, una formidabile coalizione sostenuta dalle nazioni BRICS, ha costretto con successo alla sottomissione leader mondiali, compresi i falsi reali, il Vaticano Gesuita e le banche centrali controllate dalla mafia cazzariana. Questo cambiamento epocale al potere ha elevato Trump allo status di uomo più ricco e potente del mondo. I burattinai smascherati. Falsi reali, gesuiti e mafia cazzariana. Al centro di questo colpo di Stato globale c'è la denuncia dei burattinai. I falsi reali, il Vaticano Gesuita e la mafia cazzariana. Le mosse strategiche di Trump hanno costretto quest'entità, insieme a presidenti e primi ministri, a conformarsi alle richieste della White Hat Military Alliance. Coloro che hanno resistito hanno dovuto affrontare l'imminente minaccia di essere denunciati sulle principali piattaforme per il loro coinvolgimento in attività criminali pedofile. La capitolazione di questi leader globali ha segnato un punto di svolta, con i paesi di tutto il mondo che ora prendono ordini dalla White Hat Military Alliance. Questa rivelazione fa luce su una guerra clandestina contro la corruzione, una guerra combattuta non solo nell'arena politica ma anche nell'ombra dove si nascondono oscuri segreti. L'era della clonazione umana. Doppi attori in crisi e spionaggio. Il ventre oscuro della clonazione umana viene alla ribalta, rivelando la scioccante verità che molte elite sostituite non sono altro che attori e controfigure che sostituiscono i loro originali. Questi doppelgangeranno un duplice scopo. Esporre al pubblico la criminalità dei loro originali e agire come spie per raccogliere informazioni su altri pedofili che devono ancora affrontare la giustizia. Arrestato. Hillary Clinton ammanettata, mani e gambe. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Bill Clinton arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato il presidente Pelosi. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato Giovanni Podestà. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2384. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. John Brennan arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. James Comey arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2381-3282-2384. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato l'anno Abdullahi Omar. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato Alexandria Ocasio Cortez. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Maxine Waters arrestata. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Adam Schiff arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Bernie Sanders arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato Hunter Biden. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2382-2384. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato George W. Bush. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato il dottor Anthony Fauci. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2382-2384. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Bill Gates arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2382-2384-2385. Crimini contro l'umanità. Appeso da gente del posto indiana secondo etancestri.com. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato George Soros. Eseguito. Codice paragrafo 2382-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Angela Merkel arrestata. Un Hitler Rothschild-Aschkenazita-Kazariano. Eseguito. Codice paragrafo 2382-2384. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Boris Johnson arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2382-2384. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato Justin Trudeau-Castro. Eseguito. Codice paragrafo 2382-2384. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Arrestato Mark Zuckerberg. Alias Jakob Gremberg, nipote di Rockefeller. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Cooks Kummer arrestato. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. Kamala Harris arrestata. Eseguito. Codice paragrafo 2381-2385. Crimini contro l'umanità. Sostituito. Doppio attore di crisi installato nell'esercito. La necessità di questi doppioni, che fungano da segnaposto, finché i tribunali militari non potranno essere resi pubblici, è sottolineata dal fragile stato del risveglio dell'umanità. I crimini commessi dalla Kabbalah, dallo Stato profondo, dai massoni globalisti, dagli illuminati, dai gesuiti, dalla mafia kavariana e dai sionisti luciferiani, sono così atroci che una completa divulgazione rischierebbe di far precipitare la società nel caos. La rivelazione di tale verità, tutta in una volta, potrebbe portare a disordini civili, diffuse instabilità mentale e conseguenze tragiche. Superare la dissonanza cognitiva ed esigere la verità. Mentre percorriamo questo terreno insidioso dell'inganno e sveliamo la scioccante realtà, emerge una cruciale chiamata alle armi. L'imperativo di aumentare la nostra frequenza vibrazionale, superare la dissonanza cognitiva e abbracciare la verità diventa fondamentale. Prendere la pillola rossa diventa non solo una scelta ma una responsabilità, un mezzo per sconfiggere l'indottrinamento e chiedere la divulgazione pubblica dei tribunali militari per crimini contro l'umanità. Il risveglio collettivo dell'umanità è la chiave per smantellare la rete di bugie tessuta dalla cabala. Quando vedremo collettivamente la luce, conosceremo collettivamente la verità, rimanendo uniti contro coloro che hanno registrato crimini contro l'umanità. David Lesterzra conferma Gittmo, Guam e Terra del Fuoco per i tribunali militari. La conferma di David Lesterzra riguardo alle sedi dei tribunali militari Gittmo, Guam e Terra del Fuoco aggiunge uno strato di credibilità a questa denuncia. A partire dal 30 settembre 2020, questi tribunali segnano l'inizio della fine per coloro che hanno a lungo operato nell'ombra, orchestrando crimini atroci contro l'umanità. President Trump designated Gittmo for trials, Guam for trials, and Terra del Fuoco for trials. So now we've got Gittmo 1.0, 2.0 and 3.0. Thank you Rick, next question. What do you mean exactly when you say this is the end of the end? This is the final phase of the operation, for those of you who think... David Lesterzra ha avuto l'opportunità unica di incontrare il vice ammiraglio d'Arsaye del Crandall Jr., avvocato generale del giudice della Marina e giudice capo del Gittmo. Questa prospettiva privilegiata dà credito all'autenticità dei tribunali militari e alla gravità dei crimini affrontati. Il 3 dicembre 2022 il tenente colonnello australiano in pensione della SAS ha avuto un colloquio in cui ha confermato Q, attivo per oltre 60 anni. Ha detto che i tribunali militari prenderanno il via, poiché molti sono già stati arrestati, accusati e giustiziati. Chiedere giustizia. Un appello per smascherare la cabala. In conclusione, la presentazione dell'elenco delle celebrità condannate dal tribunale militare funge da campanello d'allarme per l'umanità. È giunto il momento di liberarsi dalle catene dell'ignoranza, abbracciare la verità e chiedere giustizia per i crimini commessi contro di noi. La battaglia contro la cabala, lo stato profondo, i massoni globalisti, gli illuminati, i gesuiti, la mafia cavariana e i sionisti luciferiani è in corso, ma con la nostra forza collettiva possiamo smantellare il loro regno oppressivo e inaugurare un'era di trasparenza e giustizia. Alziamo la voce, superiamo le ombre dell'inganno e insieme chiediamo la divulgazione pubblica dei tribunali militari. La verità ci renderà liberi e, restando uniti, apriremo la strada a un futuro più luminoso e più giusto per tutta l'umanità. Grazie. 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 Grazie.